e mo che maglia mi metto eh bianca o bianco nera cioè non potrò mai mettermi una maglia bianco nera continuerò sempre a gufare Juve però 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 se vinceranno la Champions avrò le palle anche se l'interista mi romperà talmente tanto parliamoci chiaro ci possiamo mandare ancora di due cose triplette 2010 e mai stati in B solo queste due se faranno anche loro triplette io non sono così ipocrita da dire che stasera ti farò Juve tifo sempre è squadra che gioca contro il Milan e la Juve quindi non sarò non sono ipocrita allo stesso tempo se la Juve farà triplette quindi potrò mandarmi ancora solo di mai stati in B farò il chapeau perché perché alla fin fine la Juve in Champions non ha rubato niente il Real almeno contro il Bayern Monaco ha rubacchiato però mettiamola così il bianco sta sempre bene su tutto sì 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 Grazie.